Tutta la sua vita sembrava entrare nella performance. Una voce straordinaria, una carriera straordinaria, ma anche uno straordinario atteggiamento verso la vita. Luciano Pavarotti aveva rischiato di morire da piccolo e da allora aveva giurato a se stesso che avrebbe goduto di ogni momento. Generoso nel fisico, nello spettacolo, nella beneficenza, è stato il tenore del popolo, colui che ha fatto conoscere l'opera alle masse. Dopo il documentario sui Beatles, Ron Howard si dedica alla figura di Pavarotti grazie al prezioso materiale inedito concesso dalla famiglia. Da esso trae il racconto di una vita drammaturgicamente intensa vicina a quella dei personaggi che il tenore ha portato in scena. Il regista scrive col montaggio una sorta di biografia emotiva di Pavarotti, lasciando che siano le arie d'opera a raccontare i momenti salienti della sua vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.